Domenica 24 ottobre presso il Palagiorgio di Montichiari è andato in scena il 13esimo Memorial Fabio Fontanella, evento FederCombat, organizzato dalla SD Kickboxing Jiu Jitsu School, con il patrocinio del comune di Montichiari, valido per la prima tappa del Lombardia Circuit Fight and Kick Jitsu MMA Light. A prendere parte all'appuntamento svoltosi nella bassa Bresciana, rivolto agli atleti che praticano la disciplina da poco tempo, due o tre anni al massimo, anche la Classic Gym di Costa Volpino, affiliata al CSKB di Trescore, è aperta da poco più di un anno. I ragazzi guidati dall'ex fighter Marco Filippi si sono confrontati nella specialità Kick Light, ottenendo una serie di ottimi risultati. Medaglie d'oro nelle rispettive classi per Sara Ghidinelli, Matteo e Fabio Silecchia e Carlo Mallus, argento per Loris Brandini, bronzo per Vincent Andreoli. A coronamento di un weekend eccezionale, da segnalare in particolare la prestazione offerta da Marta Filippi, che alla sua prima convocazione con la Nazionale Senior, si è portata a casa una meritatissima medaglia di bronzo nella low kick specialità di contatto pieno.